infissi legno alluminio o alluminio legno? che differenza c'è? ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi oggi ti voglio parlare della differenza tra questi materiali che possono sembrare simili invece come puoi capire dal nome legno alluminio e alluminio legno sono due infissi di tipo molto diversi tra loro infatti l'infisso legno alluminio dove la parola principale legno viene prima di alluminio sono infissi in legno rivestiti in alluminio quindi ha tutte le caratteristiche di un infisso in legno solitamente in legno lamellare e la protezione quindi la scocca esterna in alluminio che protegge l'infisso in legno e di fatto lo rende praticamente indistruttibile gli infissi invece in alluminio legno sono degli infissi in alluminio ai quali internamente viene applicato un pezzo di legno cioè quasi un battiscopa in legno perché ha spessori di 15 20 mm e viene fatto questo qui prettamente per una questione estetica solitamente si riconoscono anche dall'interno anche se ho legno in entrambi i casi perché i sermenti in alluminio legno che ha la parte principale in alluminio hanno la spizza inclinata a 45 gradi la spizza è l'angolo della finestra quindi avrò quattro spizze nei quattro angoli che appunto essendo inclinata a 45 gradi dà un effetto che non è proprio quello che solitamente si si aspetta da un infisso in legno mentre l'infisso legno alluminio che di fatto è un infisso in legno al taglio a 90 gradi quindi è un infisso più amato dagli amanti del legno tecnicamente diciamo che come prestazioni quelli in alluminio legno hanno un pochettino più di resistenza meccanica ma hanno un pochettino meno di isolamento termico la cosa fondamentale se scegli alluminio legno è che l'alluminio sia taglio termico perché se così non fosse un alluminio freddo a contatto con legno genererà muffa e condensa in quel punto proprio tra i due materiali e col tempo andrà a infradiciare a rovinare completamente il legno con danni veramente irreparabili a me personalmente il tipo di infisso che piace e che consiglio è il legno alluminio quindi il vero infisso legno con la protezione dell'alluminio esterno è un infisso che ha dalla sua parte le caratteristiche meccaniche delle caratteristiche meccaniche molto buone quindi ha un'ottima resistenza alle dimensioni esternamente abbiamo l'alluminio che lo protegge esteticamente è molto bello e molto durevole nel tempo se comunque ti serve un consiglio approfondito magari per un caso specifico anche in funzione di dimensioni esposizioni colori e gusti puoi valerti del servizio di consulenza con sistema bisacchi puoi scoprire di più su www.blogbisacchi.it e ti potrò aiutare a scegliere la soluzione migliore o il preventivo migliore faccio questo servizio con quelli che non possono essere i miei clienti che magari vivono in zone d'italia dove non arriviamo direttamente con la bisacchi così il mio consiglio sarà totalmente disinteressato al contrario di quello che solitamente avviene quando vai a acquistare finestre che il consiglio te lo dà direttamente al venditore e lui chiaramente non ti potrà mai dare un consiglio veramente di cuore e se vuoi sapere di più vai sul blog ciao e al prossimo video